Buongiorno a tutti, siamo di nuovo all'Hotel Melià, al Milano i Fidelity, sta per iniziare la seconda giornata, sono in compagnia di Marco Lincetto, che è il Deus Ex Machina di Velut Luna, compagno di merende e discorribande americane ma anche italiane, un amico soprattutto, oltre con le produzioni Velut Luna, però so che fai anche delle dimostrazioni che poi ripeterai anche a Roma, perché sarai anche a Roma come me, e volevo sapere da te un feedback, volevo avere un feedback sulla prima giornata che si è svolta ieri, che dal mio punto di vista è stato un successo clamoroso, però magari tu che stai più sul campo hai una percezione diversa? Allora, non solo confermo che è stato un successo clamoroso, ma moltiplico per due, nel senso che oggettivamente dopo questi due anni esatti di stop dall'ultima fiera ufficiale fatta, guarda caso proprio qui, era veramente, di solito io mi lancio sempre in previsioni, ipotesi, calcoli, questa volta ho detto no, qui se portiamo a casa le spese siamo già contenti, ma non ne siamo sicuri e affrontiamo questa fiera veramente come una sorta di tabula rasa, no, alla ripresa, perché poteva succedere di tutto, poteva non venire nessuno per chissà quale paura ancora diffusa e poteva invece, potevamo essere aggrediti simpaticamente, come invece è successo ieri, con file di cento persone fuori, file qua dentro per entrare nelle sale, e tanto entusiasmo, cioè io ho visto in faccia alla gente proprio la felicità di essere tornati, no, a, così, a giocare con la propria passione. Sì, è vero, secondo me è proprio quella cosa che abbiamo, non abbiamo messo in conto, la voglia delle persone di incontrarsi di nuovo, perché c'è stato un incontro tra gli appassionati che si sono dati appuntamento sui vari social, ovviamente, ma anche gli stessi operatori, che sono venuti, arrivati anche qui, anche se non erano espositori, ho incontrato tantissimi operatori, tantissimi rivenditori, e sì, quella cosa forse non l'avevamo messa in conto, e la mia percezione è che c'era quasi la stessa gente dell'ultima edizione. Sicuramente, anche se la percezione era che fosse di più, ma probabilmente legata un po' al contingentamento, no, per cui anche queste file che si formavano fuori erano legate purtroppo a un numero limite di accessi consentiti anche all'albergo stesso, e quindi magari appunto in altre edizioni non ci sarebbe stata la fila fuori, evidentemente. Certo, sarebbe stata la fila dentro, l'intattamento nelle salette. Esatto, e quindi il fatto della fila fuori dà forse la percezione che magari fossero anche di più, poi Stefano ci saprà dire evidentemente i numeri reali, però sicuramente tantissime, tantissime persone. Invece il tuo feedback come imprenditore, ovviamente tu principalmente vendi i tuoi dischi, le tue produzioni. Io sono un commerciante che vende, in questo caso, in questo caso ho la veste commerciante che vende i dischi. Sì, non sei solo un commerciante, perché in questo caso... In questo caso sì, però tu vendi quello che produci, sei quasi un artigiano potremmo dire Sì, artigiano, artigiano. Della musica, sì sì. E da quel punto di vista come è andata la giornata di ieri? È andata molto bene, è andata molto bene, sono molto contento, soprattutto al di là dei numeri, insomma, più o meno allineati ai miei standard, ma come dicevi tu, del feedback delle persone. Tu forse saprai che mi sono inventato per cavalcare un po' questo buco di due anni e mi sono inventato di cavalcare la tigra del web, no, del canale YouTube, eccetera. So, so, ti seguo, lo sai. Eh sì. E sono rimasto stupito di quanta gente veniva al mio stand per farmi complimenti, per ringraziarmi, chi più ne ha più ne metta, anche proprio per questa attività. Quindi... Ricordiamo, poi metteremo il link, il tuo canale YouTube, che è Lutluna, che ha insomma un numero di iscritti considerevole, un bel salto in avanti, poi abbastanza in breve tempo, giusto, quasi in periodo del lockdown, poco prima, è iniziato e sì, è stato immagino un numero di soddisfazioni. È un grosso impegno, perché sai meglio di me che YouTube può essere un gioco, può essere un lavoro, per me evidentemente è anche un lavoro e nel momento in cui diventa un lavoro diventa un impegno, un impegno proprio importante. Del resto si crea questa aspettativa e questa fiducia da parte della gente che io non mi sento di tradire. Cioè a questo punto, io so che ci sono tante persone che aspettano lunedì, mercoledì e venerdì la premiere del nuovo video, no? E se io salto uno di questi turni, mi arrivano delle mail a casa, ho detto, ma cosa è successo? No, dico, guarda sai, capita che ogni tanto magari perdiamo un colpo perché siamo esseri umani, no? Quindi no, molto contento, molto contento di tutto. Proprio per questo motivo ti vorrei invitare poi per Roma, che tra poco più di un mese, 5-6 settimane, a Roma a fare qualcosa insieme proprio da questo punto di vista. Certo. Perché noi appunto ti mettiamo a disposizione la nostra attrezzatura, come anche oggi se vuoi approfittarne, per fare una produzione insieme, speriamo live a Roma, perché qui l'idea era di fare appunto la produzione in diretta e la connettività scarsa non ce l'ha permesso e quindi sicuramente faremo allora qualcosa di più. E speriamo che a Roma sia migliore? Sì, migliore sarà migliore anche l'audio perché io do hotdess, quindi di calibrazione video, perché lui ha un 7900, lo stesso produttore che ho io, un JVC, che calibro ogni tanto quando cambia la lampada e vabbè, e quindi ora mi devi dire dei microfoni degni da prendere per non fare brutta figura. Non c'è problema, ci organizzeremo per bene e darò il mio contributo su questo settore che è il mio. Benissimo, grazie Marco, in bocca al lupo per questa seconda giornata. In bocca al lupo anche a voi, grazie.